Ricevi il segnale? Accidenti se lo ricevo! Sembra l'incredibile Hulk dopo un'indigestione di steroidi. Puoi dirmi cosa sta facendo qui? Non saprei. Ho sentito dire che le industrie von Krooy stanno lavorando su una nuova tuta militare. Quel culturista non sembra averne bisogno. Su questo non ci sono dubbi. E le armi? L'immagine non è chiara, ma sembrano pistole laser a bassa frequenza. Il loro raggio d'azione è limitato, ma se vieni centrata puoi stare sicura che ti porteranno via in un sacco di plastica. Messaggio ricevuto.